Eccomi! Sono chi? Tenga! Pronto? Artemio! Sono io! Com'è che va? Ciao mamma, bene, ho un'importante notizia da darti, voglio fidanzarmi! Con la Maria Rosa! Uè, si fidanza con la Maria Rosa! Comprimenti! Aiuto! Bravo! C'è il mio consenso! Amore mio, ti sei deciso! Ma chi parla? La Maria Rosa tua! Dai, va, te ne passami mia madre, muoviti! Non mi sembra mica tanto convinto! Com'è, ci hai già ripensato? Mamma, non hai capito, mi voglio fidanzare con quella ragazza di città, la diplomata! Già, il potanù! Secondo me te fai una stupidada! La Maria Rosa ti vuole bene! Avrei visto un anellino di fidanzamento, il meno caro che c'è, costa 120.000 lire! E siccome nonostante le interessanti prospettive per il futuro, non ho ancora trovato lavoro e non ho soldi, mandami un vaglia telegrafico! Ma sei matto? Con 120.000 lire si può comprare una scrofa di tre quintali! Ma io, la mia fidanzata cosa regalo? Una scrofa? Comunque non c'ho più un soldo, ho impegnato tutto per comprare un trattore! E io come faccio? Hai voluto fare di testa tua? Hai abbandonato la campagna? Sei andato a stare in città? E adesso è saranget! Ciappa! Brava! Brava! Ha detto bene! Brava! Brava! Che brava! Ha fatto bene! Brava! 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 Brava!